Io, io vorrei sverginar un primo deck, nel senso, vorrei farlo io, capito? Cioè, mi metto un attimo e lo faccio, però sono abbastanza indeciso, nel senso, che cazzo vado a creare? La tradizione vorrebbe warrior, ma la mia testa vorrebbe fare mage, e quindi sono un attimo in difficoltà, atroce. Cos'è sta roba? Ma è una cafonata, ma che è? Ma come gli vieni in testa? Ma i colori si vedono un po' una cagata, si vedono bene i colori su OBS, perché... Io li vedo male, vabbè, custom deck. Allora, custom deck. Allora, chi ben inizia è già a metà dell'opera, direi io. Quindi secondo me se le carte ce vanno. Io devo capirlo, se farlo midrange o se farlo un pochino più contro, questo cazzo mazzo qua. Avete capito qual è il discorso? Credo però che siamo costretti a mettere... Che bella per tutto, Dorado, che figata. Ammette carte di questo tipo, no? Qual era quella? 5 mana mi pare che costava. 5 mana neutrale dovrebbe essere, no? Che mette sempre le bombe del deck avversario. Eccola. Bene. E io già lo giocherei semplicemente così, sto mazzo. Poo. Buongiorno. Poo, eccala. Perfetto. Dati buongiorno, caro. Buongiorno, mon amore. Tu non sai che cazzo di fatica ho fatto oggi? Prima di tutto ho chiesto per favore se poteva avere un fix dell'Adeona. Ho detto, e rimidi? Niente, caro. Non ha manco parlato. Come sta faccio? Va bene? Sì, va bene, va bene, caro, va bene. Diciamo che già si sono lamentati. Raga, ditemi se t'a tiro lo sentite troppo basso o troppo alto. Si sono lamentati perché dicono che urlò troppo, si è alzato un turco, ha detto parla più piano, si è sbracciato tutto. Va bene, tranquillo, caro. Ti dicono, ricordati, dighi dell'arma nuova. Ricordati dell'arma nuova. Sì, 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 ora ragazzi ve la metto l'arma nuova. Ora ve la metto l'arma nuova. Allora. Che è? Sa. Io ti sento basso, ma se la gente ti sente alto, va bene. No, no, si sente, no, no, si sente bene, no, ho provato io. Io ti sento basso. Raga, lo facciamo controllo, dai, va bene, va bene, va bene, va bene, lo facciamo controllo, non mi interessa. Eh, lec, lo mettiamo per forza. Lo famo controllo e via. Quindi ci mettiamo sicuramente cosa? Ci mettiamo brawl. Ci mettiamo il Donomatic. Ci mettiamo il Super Collar. Ci mettiamo il Super Collar. Io vi voglio un attimo... Mi voglio... Albe, fermati, fermati, quindi dovrò andare. E vi voglio trigger a questo lo metto, eh? Chi è? Allora. Allora, Omega Assembly per due Shislem. No, Mattia, tu sei abituato all'Ord, Mattia. Mattia! Le battite sono sono abituato all'Ord. Lo stai facendo Ord. No, Mattia. Dove cazzo sta? Mattia. E io adesso devo rientrare nella mentalità warrior normale. Metto le X, chiudono? Mattia, guardano solo le carte a due, comunque. Solo le carte? A due, per questo vedi solo un'arma. Ah no, infatti mi sono rinconito un attimo. Eh no, datemi un attimo. Quindi posso mettere anche tipo... Oh signore, che difficoltà troppo. Posso mettere anche... Vai solo di... Facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Ti faccio un codice. Andiamo su tutto. No, no, non voglio il codice. Lo voglio fare questo mazzo. Non mi rompe i coglioni. Venga, questo sarà l'unico mazzo che faccio io da solo, eh? Per carità di Dio... Ti dicono... Metti il nuovo boom. Che è il nuovo boom? Vabbè, eccolo qua. Oh, eccolo qua. C'è sta regalo. Però dorato. No, no, no. No. Come no? Come no? No. Gesù per fatica la raggenda. Sì, per fatica la raggenda. Bravo, l'ho letta apposta. Fatemi ragionare. Io sto ragionare. In questo momento sono come quelli... Non può crescere baldracca. Sono come gli artisti strada che dipingono. Fatemi ragionare. Fatemi dipingere. State calmi un attimo. Ah, Uvi? Lo vedi? Devo ragionare in questo momento. Ma scuola, quale dipinge? Che tu non sai... Manco il cerchio. Io qua so come G8. Sto dipingendo. Fatemi dipinge. Dov'è il ragazzo? Ti dicono Zilex. Bravi. Mo lo metto subito. Dov'è il ragazzo? Poi mettici pure il bato. Ah, qui lui. Ce ne metto uno o due? Ma perché ne mettiamo due? Mettine due, dai. Ce ne mettiamo due. Che mazzo? Poi mettici pure il Dittirat. L'ho messo per due. L'ho messo per due. L'ho messo per due. Ok. Mamma quanto sono carico. Sono pronto. Zilex, pu? Ma pure il Dormaster, Doria. Non ci sta bene. No, no, ragazzi. Io sto... Comunque sto lavorando e sto parlando seriamente. Sto facendo un mazzo competitivo che sicuramente è strutturale. è il meta per vari anni. Quindi fammi ragionare. Mi serve qualche... A me serve un'arma. Non ce l'ha armi il... Arma. Metti la... Tipo arma, giustamente. Charm. Come si scrive in francese arma? Ma... No, 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 in francese. In inglese. In inglese arma come? Questa è tutta una merda? Weapon. Bravo. Interessante? Mi piace? Ah, ragazzi, è finito. È finita. È finita. È finita l'opera. È finita l'opera. È finita l'opera d'arte. Ma scusami, l'arma che mette le bombe? Eh? L'arma che mette le bombe non ce la mette. Parca madonna. C'è l'arma che mette le bombe? Ma sono scordata. A quattro. Mannaggia, quella trova. E la dovevo andare a questa, allora? Che ho messo? Che ho messo la fine? Tu hai messo due per quella là delle spell. Era tolto. Eh? E gioca in uno per pure l'elec. No, ma due sono troppe di queste, regà. Ma che cazzo dici? Mettiamo una di questa. Quella è troppo forte l'arma a due. Magari becco strozzo che gioca aggro, capito? Regà, leviamo un sabotatore. Sì, va bene. Facciamo una cosa. Leviamo un sabotatore. E leviamo anche un robot. Per forza, sono troppi, sono troppi. Mettiamo due di questa, sicuro? Perché abbiamo anche gli scislam. Oh, serve una cosa che dici la metti, fa il... Serve un leech king, è una cosa del genere, serve. Serve... I sera. È troppo lenta i sera, però. Serve qualcosa che dici la metto e hai vinto, capito? Geppetto. Ma perché? C'ha senso, no. Serve una cosa che tu dici la metti... Capito? Boom! La barista! Perché quando giochi, quello che mette le bombe, te lo prendi in mano. Non direi minchiate un attimo, stai zitto un secondo? Non direi puttanate. Se no metto chef, no, mi impazzisco del tutto. Oppure la tizia 8. Se no che sia un tipo... No, no, regà, metto kern, sto pronto. War control, sto pronto. Carta nuova. Sto pronto. Metti un dottor bom dorato. Che poi... No, 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 ve li struggo. Vi massacro. Allora, io qua... Non so ora... Allora, adesso ragazzi, io non so chi... Ma come rand 25? Eh, che vuoi? Rank 25. Rank 25. Oggi, caro, trajardiamo il legend. Siamo... Calcola che siamo... Calcola che siamo... Quanti cazzo siamo? 3, 6... Siamo 12... Struzzi. Chi c'è? Allora, caro, allora, c'è davanti a me il poli. Vicino al poli c'è il... Il teo che è se... No. C'è pure la capo under, so. Vicino a me c'è sta... C'è cloud. Ti ricordi, caro? Uh, grande. Lo salutare? Black Day. Sì, se lo passi dopo. Poi te lo passo. Sì, dai. Poi che sta uno che è impazzito che dice che sta urlando troppo. Io sto urlando sto, secondo te? No. Sto urlando, sì. E' tutto torno di voce. Che poi c'è stato io con l'Apo Polli che... Chi cazzo? Abbiamo trovato un concorrente, cari. Abbiamo trovato un concorrente. Ma... Io sapevo che c'era pure la capo under. C'è... Potrebbe anche essere lui, perché io leggo... Io leggo Fuzzy Patron. Sì. Leggi, Luzzi, fa... Io leggo Atrix Warrior. E' bellissimo vedere Atrix. Ma secondo voi, questo è un concorrente. Un concorrente. Atrix rank 20. Mi tengo tutto, vi massacro. Oh, ieri stavo... Stavo bregissimo. Cioè, no, vabbè, bregissimo. No, non diciamo. No, no. Stavo comunque bevendo. E... Stavo a una stella da Legend. Una. Sono trovato al rank 3. Stavo bregissimo. Cos'è sta merda? Cos'è sta roba? È un secret? Ma ti è rank 15. Dragon Palo, la con Palo, la con Palo. Dragon Palo! Dragon Palo! Io mo... Io mo... Io mo se scopro quello che sta giocando la con Palo, caro, gli mangio il cuore, gli mangio. Sì! Che stronzo, maledetto. No, ma perché? Che... Cioè, non c'è mai quel coin dorato. Mi triggera sto fatto. È perché... Sono veramente tanto streolso, sono. Dragon Palo. Finalmente, ha trissato un rank decente. Va bene, caro. A prezzo. A prezzo. Oggi facciamo rank Legend. Ma tu, per forza su un'Hertpun, eh? Tu non è più bello. Eh, da, ma che è sto discorso qua? Ma che è sta caponata? Ma che è sta roba? Che bello. Ma bello cosa? Se me ci perdi pure. Che ti dico di... Ma... Martì, ma ti... Hearthpun o Hearthpun o Hearthpun top deck per creare il deck? Alla, cari, voi potete prenderlo dove volete il deck. Scegliete voi. Per me è uguale. Sceglietelo voi. Per me è la stessa identica cosa. Dove è più veloce? Spero che non prendi la bomba. Per lo meno con Dr. Boom noi ci mettiamo... Non so se sia worth it qua fare la coin. Secondo me sì. Sì, sì. E... Vogliamo attaccare pure? No. Eh, ma il turno 5 nostro sarà Super Collider. Probabilmente... Vabbè, passiamo. Passiamo. Tatillo, entrambi hanno la stessa funzionalità. Di cosa, Simo, caro? Non ho... Non l'ho seguito. Questa era prima da Poli e ha perso. Hai giocato contro uno già te? Io. So, Atix. Eh, già sposto. Trampame in cazzo io. Tatillo. Perché? Trampame in cazzo pure io. Perché? È perché c'è una mano de merda. A parte il fatto, va bene, che questo è Dragon Warrior. C'è Dragon Power, caro? Non perdi mai. Quindi va bene, anche se c'è una mano de merda. Però che panno. Che forti il robottino. Oh, camadongela. Non so se ha senza attaccare pure qua. Non è bello. Secondo me sì. Perdiamo un pochino dei value con lo Shishlam. Secondo me, ragazzi, Kern... Eh? Io ce l'avevo Kern dorato. Poi l'ho shardato, lo sai? No, ce l'hai ancora dorato. No, l'ho shardato. L'ho shardato. L'ho shardato. Io ce l'avevo tutte le carte dorate, caro. Sono veramente una persona ruvuta mentalmente. Raga, subito, it's meme qua. No, 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 no. No, 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 no. Dopo Dr. Boom, secondo me è fortissimo. No, 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 no. bomba è uscita la bomba è uscita la bomba c'è la sfiga c'è la sfiga troce da me addirittura ma sai che sarebbe quasi da bannaico per sto discorso mario tadillo ci cos'hai tu ci c'è ma porca c'è questo praticamente non evoca niente adesso e fa il serio che sta cagata e due al serio ma cos'è sta roba comunque ragazzi se fate un esclamativo sub per i sub un esclamativo sub vi arriva in privato il messaggio dove vi spiega come partecipare al sì assolutamente sì ok wait secondo me il bot contro sto deck è stupido è perché c'è il di lei aspettate un attimo che di lei no no non lo so rega penso che me la gioco questa potrebbe essere la mia rovina ok ragazzi provate ora questo c'è sclodo che ride l'acqua lavori allora vedi sono l'unico strozzo che urla c'è anche gli altri che sentite voi so pare che sto solamente io il pazzo che urla come un danno ma non ti devi permettere ti vorrei del ruolo è un po tagliata troppo la scena c'è le carte sono tagliate e rega pesce non so per qual motivo se tu se tu vai sulla scena di arson un pazientale e scegli arston fai tasto destro fai ridimensiona come lo schermo fix secondo fai fai reset transform ma arston è il 1920 per 1080 arson è il 1920 per 80 allora vai sulla scena selezioni la finestra di arson e poi amore mio all'aspettate un attimo arson 1920 e 2008 quanto deve essere il gioco 1990 per 1080 se è così vai su hobbs fai sulla finestra di arson e fai tasto destro transform no sabbatatore reset transform che mi ha giocato? il sabbatatore eh ma fatto a mega assembly si grazie aspetta adesso non posso parlarti alessà aspetta un attimo dai si ah un po' di rispetto un po' di rispetto va bene è importante per me vincere questa partita lo sai ma poi poi passa pure porca troia un altro no aspetta quante me ne dà me ne dà troppe raga aspettate un attimo quante me ne dà boom quante bombe c'ha lui con questa sono due o tre tre si attiva il sindicato è divertentissima ma questa cosa è divertentissima divento matto divento divento matto datillo divento divento pazzo vabbè già lo sei boom è un deck di merda ragazzi il boom warrior a me dispiace dirvelo ma è un deck di merda cioè non sto deck vince una cagata una merda mario detto datillo una merda una merda una cagata una schivezza una villanata ma quel dr boom è un mech certo che è un mech certo che non è un mech i mech sono le boom bot bravo dovevo mettere in difficoltà vabbè giocare il toro carenato il trato mamma che scarogna raga ho scarognato con le bombe gli ho fatto gli ho fatto quanti danni 3, 4, 5 gli ho fatto 6 danni in 3 bombe vabbè ragazzi è stato divertente la prima partita che faccio caro non so se tu lo conosci oppure no ma gli spacca i culi con il buratello bro c'ha le carte fanno parte di un giochino in cui lui crea delirio e arte eeeh ciò che rizzano a tricc non so se tu lo conosci ne so se tu l'abbia è un giusto